Eh, te l'ho servinata, adesso non è la stessa cosa. Comunque le due tipe sono fighe, apposta. Eh, meno male, bene. Va bene, Mauri, sei pronto? Sono pronto. Allora, se tu sei pronto, intanto tolgo tutte le altre cose, il mio conto, eccetera, eccetera, possiamo partire. Cazzo, quella è mia cugina, perfetto. Partiamo bene. Non devo parlare con il volume, perché sennò... Sai già che ti rompere i timpani? Sì, so già. Andiamo. Mi sta abbofferando. All'infinito. Ah, non ti è partito? No. Adesso? Ancora sì, ora si. Ok. Guardalo. Canotta. Sex. Canotta fiera, dite? Sì. Ah, ragazzi, scusate un canto. Bella, io non avevo mai accorto. Bella l'audio. Senti, ah, una cosa. Senti, se è scopato di tentare... Non ho capito. Non ho capito niente. Sì, siamo proprio rotte le palle. Sì, siamo rotte le palle. Vabbè, iniziamo a studiare il nostro piano. Ragazzi, spero che vi siete tutti pronti per oggi. Ma cazzo, sto casatissimo. Sì, pure io, dai, dai, dai. Ma io ti lascio. Pure io, sì, sì, sì. Ma ma che cazzo c'è? Vieni qua. Vieni qua. Guardate qui. Volevo imbarmi. Dicevamo. Mi sarebbe piaciuto avervi tutti qui oggi, ma guarda il fatto che... C'è quel cibo in testa, proprio. Ho chiesto a un ecroppo che, insomma, non aveva voglia di venire. Quindi ci ritroviamo solamente noi. Vieni ragazzi, vi voglio cazzuti. Ok. Ti fa un il culo a panino. A panino? Il culo a panino, sì. E qui ci daremo tutte quante le istruzioni, vi dirò dove andare, che cosa fare. E beh, scriptato, cioè... Intercettabile. E da divisi lo colpiremo in punti separati, in modo tale da schiacciare dall'interno. Cosa? E ci sono anch'io. Pensavo fossi sparita. Abbiamo anche una figa in team, ragazzi, viva. Però, da un conto in speso con l'induce, e poi saremo stati pari a me. Quindi può rendere adesso. È fatta, ragazzi. Sì, in effetti la storia è per me veramente schifo. Tra i bianchi, un dio e una ragazza. Si pronuncia bene. E quindi, ragazzi, direi che è il momento di andare. Ok. Ok. Per Cristo! Eh? Che ha detto? Gesù Cristo, capito. Che uccania! Bellissimi! Mamma mia! Oh! I Power Rangers, basta! I Power Rangers, cazzo! Mamma mia! Immagino la gente là fuori. Ancora. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Si sono divisi, ragazzi. Aspetta, stavo perdendo i timfani. Un attimo. Ok. Stavo a basso. Sì, sì, stavo perdendo i timfani. Young girl get ripped. Oh, è la mossa! Bella, una felpa con le maniche. Senza maniche, il cappuccia. Bello sfondo. Alessio Passetto. Cittadella, a casa mia. A casa di Mauri. Cos'è ti scrivendo? Crico. Perché hai rimosso Michele Santecchia, poveretto? Il bello è che loro, pensando di eseguire gli ordini di Sergi, sono solamente cascati nella mia trappola. Che ritardati. Non ho capito niente. E' che da spettarli ci saranno i mie scagnosi. Eeeh. Il fatto riguarda Rob, ho trovato un bel modo per sbarazzarmi di lui. Il dulce sa tutto, Mauri, in poche parole. Va bene. Gli ha tesi in trappolo. Ok. Ok. E' quello negro? Quello negro col pollice negro. Ho colto l'accitazione, ho colto l'accitazione. Memes! Ecco. Che musica, ragazzi. Ma dov'è che stanno andando esattamente? Non me lo son perso. Ma non so, dispersi nel nulla. Sono ambientazioni differenti. Sono i biomi di Minecraft. Gente di spiaggia, gente della foresta, città, c'è tutto. Ok che Ancona è una città, però... Ecco. Cosa? E' in Giappone adesso? Sì, la maschina per le nubi tossiche. Ha paura dell'ardiattività. Eh sì. Qui non c'è niente. Eh no, non c'è niente. L'altro, sono sbagliato. Come non c'è niente? Ecco. E' Pyrex? No, non è Pyrex. No, no, è... È Khaled. Luce non sbaglia mai. Khaled è Khaled. Eh? Cosa? Chi ha parlato? Luce che avevi sbagliato sei tu. Ragazzi, è troppo bella la recitazione di quell'uomo, io l'adoro. Mamma mia, guarda con che violenza lì, Balotelli. Guarda gli occhiali. Quando luce propria con gli occhiali. Compensa quella che non fa lui. Battute razziste ragazzi, però dai. Va bene, lo so di te. Abbasso che ormai conosciamo a memoria. Senza cipolla, tanto piccanto. Ma non è che magari cambia? Tipo nelle serie vere. Adesso controllo, aspetta. In che senso? Ogni tanto nelle serie, mentre si svolge la storia, cambiano un po' la sigla. A me non sembra. No, non è che a me. E invece? Oh, l'ho predittato. Ma via, ma ora ne sa troppo. E' diventato più... Come si dice? Più frenetico. Più casinato. Sì, sì. Ah, perché abbiamo passato l'episodio 10. Mamma mia. L'epicità? Sì, è troppo. Beh, almeno dura meno di quell'altra, è già un passo avanti. Ah sì, è vero. L'altra durava due minuti. Io ho your reference. Eh, non lo so. Ok. Io ho già il reference. Eh, io non l'ho visto, non vedo gli anime, quindi. Poi qui gli occhiali, ma ci vedrà qualcosa? Come fa a vedere? Ma non lo so. Oh no. Ma stai pensando il muro? Fa parte del muro, non vedi? Ah, ok. Cosa sta facendo? Hai notato come si è illuminato quando ha sorriso il nero? Ti va via. Chi è? Di nuovo il nonno, quello? Ma ci mi sono un calzino in testa, questo. La traditrice. Io ho un obiettivo da compiere, togli. Oh. Adesso si riega nei capelli, eh. Tu, da sola? Non sono sola, sono con il team di YouTube. Come se servisse a qualcosa. Sono tutti morti, probabilmente. Comunque ci sono cambiate, eh. Intanto ucciderò te. Cosa c'è, pensi di intimidirmi? Adesso ti picchio. Ti picchio? No! No, invece ti picchio io. Ma lo stanno facendo apposta, spero. Ti posso come questo, c'è un caldo, una donna. Spero. Eh, si teni i capelli. Nemmeno io condivido la scelta del duce. E tu che cazzo sei? I am the sicari. Eh. Ah, ve lo ricordo, ve lo ricordo. Non si sente niente. Non si sente niente. Cazzo. Sono solo un metallaro si cazzo. Non solo un metallaro si cazzo. Tu ascolti musica vera. Derigerò dalla prigione. Ma che casino, non sento niente. Ma che è sto audio qua? Mi ha andato peggiorando. Ma come si vestono? Una scelta molto azz. E come si sarebbe di... Lui è... Azzardare. Non so, il nostro stasiderone. Ma che è sto casino qua? Sì, io... Io sono qui per uccidermi tutti. Io dico che non ci riuscirai. Io dico che non si riuscirai. Non ci riuscirai. E' colpa tua se siamo arrivati fin qui. Se non avessi preso quella chiavetta adesso... Eh. Non ci sarebbe nulla di tutto questo. È vero la chiavetta. Io quel giorno ero lì. Ti ho visto. Ho capito cosa sei e chi sei. E sinceramente... A me va bene così. Ok, va bene. Se va bene a lui apposta. E questi chi sono? Madonna. La galera mi sa. Ah sì. Grazie Vagiel per il sub. Troppo gentile. Grazie mille. Ma che porta ora? Che succede? Il gatto? Ti mangiato la lingua. La colpendo. I capelli davvero lunghi. Ma quant'è che sei qui? Romani. Sai? Non ho l'idea di... Che cosa omosessuale, Mauri? La vedo male. Un inutile come te. Piava con le parole. Se non si vedono le pistole con luce dietro. Mi fa ordinato di uscierti, sai? Ma... Ho voglia di divertirmi ancora un po'. Sei ripugnante, tesoro. Tesoro. Te l'avevo detto. Ammettilo. Ma è passato dei bei momenti. Iniziano. Come quella volta... A perdere il giorno. Mi ha fatto mettere su un nuovo free jazz. Ma perché mettono le battute in mezzo? Perché? Non sto capendo. Non è colpa mia se non sai tenere un cinque quarti. Zitto. Non riesco proprio a guardarti con questi capelli. Segui un tossico. Beh, cosa sta facendo? Beh, cosa sta facendo? Qui dentro è davvero caldo. Aia. Aia. Dall'occasione di rimediare. È già al massimo da OBS l'audio. Non so cosa direvi, ragazzi. Era un morso, quello. Morti come un cane! Ma gliel'ha messo davanti alla faccia, proprio. Donna, che mal si sente un cazzo! Ma chi è? Unmitazione? Fuggito? Bello, come probabilmente ha registrato tutto all'agosto. E' una stagione di caccia. E lui, e... E tu chi saresti? E che cos'è quello? Non sono calento. Faccio kebab. La mia ciao. La cimitarra. Pensavo lo spiedo. Madonna! Sto perdendo i timpani! Cos'è? Che stiaudio, bravo mia! Swish, è da sotto! Offendente! Ti mostrerò un po' di comunicazione di panesi. Ma quella è meglio dell'Italia. No! Il mio pastore! Non sarò più a niente. Che agilità. Che agilità, ragazzi. A casa vostra, immigrati! Oh! Perché il Duce ha paura di volare? Perché il Duce ha paura di volare? Guarda, no. Non hai più armi. Invece no. Cosa? Cosa? Che cazzo mi hai fatto? Oh, ma io! Ma cosa hai fatto? Oh, ma io! Oh, ma io! Il mio palo... No, questo è meglio. E' quello che hai? Ma io mi hai fatto un po' di solito. è una revolver quella, what a farlo oh molto serio dai, oh la ma non era tipo di fianco a loro prima di essere venuto sulla panchina? dai non importa, non importa mamma mia cioè qua è proprio, abbiamo raggiunto dei livelli top ten anime fights ecco appunto che cazzo è? che cos'è tutto ciò? ecco dov'è finito vabbè aia, aia ok lui nero c'ha il cazzo lungo, non ha paura eh si COSA? l'ha toccato l'ha toccato? vabbè anche lui l'ha toccato eh ma si toccano forte cioè non è che dici si toccano forte guarda lì sta venendo gli attacchi epiletici da come si muove lo schermo mamma mia è terrificante si che affronto, guarda lì mi fa male gli occhi non ce la faccio più insulti mi prende la gamba, no non va gli sgambetti aspetta è un terremoto è un terremoto è un terremoto il nero a tre gambe è avvantaggiato è magico questo momento va bene, cambio scena cos'è l'ha fatto? cos'è? non c'è cos'è? non c'è fatto niente ha calpestato una bomba ah ok che c***o almeno lo so salvato eh si sono sicuro che con la galleria è il posto giusto ma cosa? ah duce bastardo con tutte queste trappole questa non è la base del duce è solamente la tua tomba oh ma quanto è figlio con gli occhieri a goccia del 2007 ma mamma mia oh mio de oh proiettile scomparso nel nulla c***o devo imparare a ricaricare più colpi occhio che casca è inutile nascondersi è nascondersi oh cos'è? cos'è? sono tipo le cose da legare la barca lo devi proprio fare ah si ma perchè sei andato a cacciare per questa situazione? è troppo pericoloso per un ragazzo come tu cioè cos'è? senti un ragazzino normale no? beh perchè ovviamente c'ho le mie buone ragioni ecco ah ho proprio voglia di una bella sigaretta gas no fermo non senti questo odore eeeh è gas no lo sapevo c'è questo del caso oddio c***o i capelli c***o c***o i capelli c***o c***o i capelli c***o ecco c***o i capelli eh ha diventato un porno lesbo ah si aiuto aspetta aspetta la pistola no niente ok ok ragioniamo basta che non è così ottimo combattimento ragazzi hanno tutte le pistole ma che è? c***o i capelli c***o hai merco con lo scotch attenzione è quello che penso aspetta aspetta gli blocca la collisione si si sicuramente e poi esplodono eh si si va bene la costa vabbè questo mi facciava dopo questo ma poi che casino c'è ma cos'è sta musica tutta eeeh e questo cos'è? ah è la mia nuova e se ti dissi che posso fare lo stesso? no lì che in questo punto mi ha giusto una ma non mi aiuto la macchina la macchina ahahah ahahah qua si andrà fuori non tra poco si sicuro effetti randomici a caso così questo mi lo hai fatto beh batti un po' la fiacca ahahah ahahah zitto oh oh ma che cosa? l'audio è altissimo lì in provincia che raste di mignon noir te lo spezzi la brutta è bassa perchè è un po' via Van Damme è tornato ma un po' tutto c'è lui ma un po' ma un po' edabile ma un po' ma inutile Kai ma che cosa? cos'era? è come si ti avessi già colpito quindi è Naruto adesso mano tesa questo corpo l'ho sentito e la cosa non mi piace senti questo Mamma mia Ma non lo so Sto rotolando per terra, non lo investono Adesso Senti questo Adesso cosa sta succedendo E' il troppo di GTA AHHHHH Ma cavallo C'è auto reference Da quando hai imparato a controllare così bene il tempo? Da quando sei stato così coglione A farmeli imparare Muori Velenza Mamma mia Finta telecinetica Cosa onda cinetica? Qualcosa telecinetica Ah ok Sto perdendo i timpani Ragazzi vedete perché non guardo anime Fa male guarda troppe anime Diventate così poi Ma che scarpe ha Twitch man? Guarda tutte rosse ma che è? No aspetta No no aspetta Cosa? Questo era soltanto un bello Guarda è come Dragon Ball con un piccolo che si leva la AHHHHH Ma dove? Questa è una trappola quella Lui tranquillo se la ride Cos'è? E' una traccia Non vedi E' proprio E' proprio necessario E' proprio E' proprio 44 Ah Fresca Fai meno rumore anche Strisciando per terra Striscia bene i piedi mi raccomando Ragazzi l'hanno registrato un mese fa e E' fare un caldo terrificante Anfora come sono vestiti E' che cosa che sudano? Ecco ha spaccato l'angolo lì Nelle garage C'era tipo il segno Fanno causa Azz Cosa stai dicendo? Cosa sta facendo? Più che altro con la banana Non capisco Esatto Mi fa mangiare Ma... No, no No, no Che poi ci mettono il copio E ci mettono le censure Cammina come se avesse preso il culo Eh... E' più di cazzini ci credo In garage Sotto agitata di questa pistola Ma cosa sta facendo? Ha parlato dell'agitata della pistola Che è una banana Vabbè Sono HD Ma perchè hanno i calzini? Perchè? Ma tu ti scalzi Sono ancora da solo eh Eccolo Kaled Ma com'è aperto Com'è aperto Kaled No! No! Ah! 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 Ti stupido Ti stupido Ah! Ah! Questo non è un cazzino del più molto Ah! Ah! Non ho capito niente Kaled C'è da qualcosa? Kaled è mio preferito comunque Sì davvero Lui è Pyrex Ma dove è Pyrex? È vero E il testo del latte è anche che non è più apparso No! Allontanati! Si si è il latte che tu... Vieni qua! No! 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 Aia! No! 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 Fermo! 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 No! Che fare? Spero che nessuno li stia vedendo I quali momenti Siete davvero? Mi ha fatto un male cane lì Perchè? Ma poi entrano uno alla volta, proprio Aspetta, Maudì! Un attimo! Cosa? È quello... Doti qualcosa di strano? C'è un piede! A destra! Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? è il bagno amore? amore? ma che è diventato una cosa omosessualissima? cucciolino? va bellino? dove sta controllando? azz potrò andare nel microonde? non ci sia mai è nel microonde eccoti è il bagno è il bagno sono sul frigo mica è Remo no ma perchè vieni qua ma perchè è una cosa troppo omosessuale ma guarda Khaled è veramente disturbato comunque sei bello come il sole come cosa sta succedendo cosa sta succedendo ma che cosa omosessuale sto vedendo perché fa male young guy raped by Khaled by una bot raped by islam terrorist 50 su 50 su cipolla ma si ma l'audio tutto a cazzo ma sta musica altissima oh che assalto pam ma l'hotelli attenzione sono tornati qua via perchè cosa cosa è successo non ho capito ah aspetta non ho capito nemmeno io non ho capito se lo ritrovala sicuramente voglio fuori madonna cosa gli ha schierato le nocche una nocchiata cosa sta facendo cosa si sta rompendo il costume ah no oh ma è un bello questo cappello ma no ma dai un nero che imita un napoletano vabbè vabbè più discriminazione di così no aspetta hai attirato un pugno particolarmente forte grazie ma si colpa da dove cosa sta facendo piccolo ma più che si fa male per cui attenzione ah invisibile ok adesso ti mostrerò il mio bel potere io sono sergi no è impossibile la risatina poteva evitarlo però si tutta paura non lo ho più io plasticaccia proprio il culo eh beh cos'è? userò il mio ultimo potere ha la musica di bleach ecco riparati il mio potere permette di entrarti nel subconscio e farti vedere la tua più grande paura aia darwin che cazzo è? la tua sarà una bella morte ma avrà il volto del terrore stampato in manzo che cosa è tutto ciò maori io non capisco perchè ti fai luce? perchè lui mi paga aspetta aspetta ok non fa una piega ma non ti senti un po' sfruttata? è un lavoro bello è riposto almeno sei paga però il retiivo è inutile lasci stare i dubbi sensi ahahahahah non è il shot mamma mia ecco ahahahahah giusto oddio c'è un papa con un bambino ha detto Cosa sta succedendo? Che cos'è? 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 Eh, ma è COD adesso Se ne copio di COD Era da tempo che non mi divertivo così E sentiamo, adesso userei i tuoi capelli come arma Esattamente Mica lo frusta che è? No, voglio vedere la scena però adesso Ma il caled continua Con le macchine È lì che fu Penso ai macchine che passano Raga, il caled è troppo forte, è imbattibile Adesso chiamano la polizia Un ragazzo che è stabilizzato da C'è un ex da comunitario Che sta picchiando il ragazzo È vero, caled si è cambiato, è vero Dai, fai versi della sciglia Lo morde come un cane Lo morde E tu non ti dico come un maiale Ebbè Cosa fa? Boh, non so che Questa musica è altissima come al solito Salvini salvalo Chiamate Salvini Chi sei tu? Occhio Ora ti uccido Ora ti uccido No È finito Mauro È finito così? È finito così? È già passata mezz'ora Con un sacco di cose di grifo